Raccontano 40.000 anni di storia, dalla preistoria fino ai giorni moderni di oggi, dove l'utilizzo della ceramica è stato sempre visto in modo particolare, ad esempio la forma spesso antropologica, è l'uomo nella forma, dove il boccale è l'uomo che ha la pancia per contenere, la bocca per versare, il piede per appoggiare il braccio, e la conca abruzzese, la donna abruzzese, con la gonna e lona fino a terra, le braccia ai fianchi perché portava il peso sulla testa. È una collezione particolare perché è antropomorfa e zoomorfa, quindi le bottiglie a pupa che venivano usate, piene di vino dolce da regalare alle spose o alle donne del compleanno, piuttosto che quelle a forma animale. È un saggio di un grande professore abruzzese dell'Università dell'Aquila degli anni Sessanta, che mi ha colpito particolarmente e da cui abbiamo tratto degli spunti per presentare la collezione delle ceramiche antropopaiche a forma di animali. Per cui questo ci spiega il perché delle forme. Dalla prima forma che la creatura, una ceramica che la donna faceva nella preistoria, dove ammassava la pasta, il pane, la farina, a l'evoluzione delle forme, il boccale, il cranio dell'animale che veniva usato per contenere i liquidi per bere. C'è tutta un'evoluzione che negli anni ci accompagna fino alla parte troppo paica, che era scaramantica, augurale. I boccali con gli occhi dicono o tu che dici guarda quegli ubriaconi, resta fuori dalla nostra befuta. Servono per tenere lontane le cose negative, come gli occhi davanti alla prova della nave per respingere l'onda che voleva buttarla giù o il pesce che voleva mangiarla.